In pochi minuti stamattina lo scenario è cambiato radicalmente, la neve ha colto tutti di sorpresa con precipitazioni copiose per quasi tre ore. Già a quote collinari si sono subito registrati disagi con automobilisti rimasti in panne sotto la tormenta e camion bloccati che non riuscivano più a proseguire il loro cammino. La scena è stata la stessa su tutte le zone interne della provincia di Campobasso, al di sopra dei 4-500 metri. Qui siamo alle porte del capoluogo, decine di mezzi sparti neve in azione hanno lavorato sulle strade senza sosta per tutta la mattinata come pure i mezzi per lo spargimento del sale. E se in collina i disagi sono stati tutto sommato contenuti bastava salire in quota per vedere una situazione assai più critica. A metà giornata questa è la situazione all'entrata di Campolieto, siamo quasi a mille metri d'altezza, le poche auto che passano procedono con difficoltà, imperversa una bufera di neve in attesa perché le previsioni non indicavano una perturbazione di questo tipo. Come vedete il paesaggio è polare, la strada è ghiacciata, le difficoltà per la circolazione sono molte, passano tanti mezzi sparti neve, sono diversi mezzi pesanti che sono rimasti bloccati. La temperatura è scesa in zona fino allo zero, il ghiaccio ha rappresentato un insidio anche quando le precipitazioni attorno a mezzogiorno si sono fermate, disagi non solo per la neve ma anche per la visibilità ridotta a pochi metri su molte strade dove gli automobilisti hanno dovuto procedere a passo Duomo. Qualche difficoltà anche a Campobasso dove sono caduti solo 5 centimetri di neve ma il traffico ha subito rallentamenti e disagi per tutta la mattinata. Anche in città sono entrati in azione i mezzi di soccorso dopo il rapido miglioramento di fine mattinata, ora le previsioni annunciano ancora qualche possibile nevicata nel pomeriggio, poi un rapido miglioramento.